Dalle macerie ci siamo risultati e dopo tanti sacrifici gli marinati a questo paese bello e nuovo campato e le macerie ci siamo rimarci sempre un pazzo L'augurio che faccio alle paesane di non scoraggiarsi dalle umane Tremia sempre che ci ha preceduto, sa tanto da fare e ha vincuto vorremmo sempre premi nel lavoro e sconfiggermosci domani che ci acconti quando arrivo a Degu alla piazza a ricondermosci e tutta un'idea forza abbracciamosi, auguri a quest'oglio e da chi in questo paese è nato ed è visto Ciao, tanti auguri